Oggi tra l'altro sullo scenario sembra cambiare qualcosa. Abbiamo dato poco fa la notizia di un primo, sembra, ritiro di truppe da Gaza Sud. Ci sono ancora in corso i colloqui al Cairo per cercare di negoziare la restituzione degli ostaggi, però quello che fa Olmert con noi è un discorso politico. Che cosa c'è dopo? E' un discorso politico e la politica è la vera scomparsa di tutta questa vicenda che si risolve in termini di morti, di bombe e di sangue. Io sono assolutamente d'accordo con questo, ho sentito solo questo frammento dell'intervista e mi ha fatto pensare ad una cosa che mi disse una volta Shimon Peres. Mi disse quanto tempo ci vorrà e quanto sangue dovrà scorrere prima che si arrivi all'unica soluzione possibile, il riconoscimento dello Stato di Palestina e la sicurezza di Israele. Quello che è successo il 7 ottobre è spaventoso, è stato un massacro e Hamas doveva pagare per le sue responsabilità, ma non i bambini palestinesi, non le famiglie palestinesi, non migliaia e migliaia di persone costrette alla fame. Israele si sente più sicura adesso, è meno isolata internazionalmente. La posizione americana, così come la posizione di Olmert, ci richiamano al dovere della politica. Anche perché credo che quella sia la domanda delle domande e che molti nella società israeliana a questo punto stanno cominciando a presentare con forza. È un conto col quale bisogna iniziare a ragionare. Guerre, come le società escono dalle guerre ed è una cosa che ci porta all'ultimo libro di Walter Veltroni, La Condanna. Quando ha deciso di scrivere questo libro? Da dove nasce? Molti anni fa, perché lessi un saggio di un professore, si chiamava Gabriele Ranzato, che scrisse un saggio su questa storia, della quale io non sapevo niente, ma come nessuno sa niente, ho verificato che veramente è stata coperta dal silenzio e dall'oblio. Siccome in generale mi piacciono le storie delle persone dimenticate, sono andato a ricostruire la vicenda di quest'uomo, che viene linciato il 18 settembre del 1944 dentro il Palazzo di Giustizia di Roma, viene linciato in una maniera selvaggia, viene impiccato a testa in giù a Regina Celi, ed è il prodotto di un'esplosione della folla. E andiamo lì a rivederle le immagini proprio di quell'esplosione di folla, perché da lì cominciamo a ragionare insieme. 18 settembre 1944, Roma. Sta per essere avviato il processo contro Pietro Caruso, ex capo della polizia locale, accusato, fra l'altro, di avere compilato in parte la lista delle vittime delle fosse ardiatine. Dalle prime ore del mattino, una folla si accalca davanti al tribunale, ma i cancelli vengono chiusi, perché l'aula non è abbastanza grande da accogliere tutti. Tra i testimoni a carico di Caruso c'è Donato Carretta, ex direttore del carcere di Regina Celi. Carretta era compromesso con il fascismo, ma aveva più di una volta aiutato i prigionieri politici. Una truppe di operatori americani è sul posto. Luchino Visconti dirige le riprese. Sono lì per documentare il dibattimento contro il capo della polizia fascista della capitale nei giorni dell'occupazione tedesca. Si ritroveranno a filmare il linciaggio più noto del dopoguerra. La folla eccitatissima travolge gli sbarramenti di polizia e si impadronisce di Carretta, che viene percosso e trascinato fuori dall'aula. Tentano anche di farlo travolgere da un trauma. Alla fine, Carretta viene trascinato ormai morente fino al terra. Gettato dal ponte, l'ex direttore di Regina Celi rinviene, cerca di mettersi in salvo. Lo finiscono a colpi di reni. Il suo corpo, quasi nudo, sfigurato, viene appeso a testa in giù, alle inferriate del carcere. C'è l'assoluta ferocia di questa folla che si impadronisce di quest'uomo. Abbiamo sentito raccontare che c'era questa troupe americana, ma a dirigere era Luchino Visconti. Quando si dice che questo libro ci costringe anche a fare i conti con un pezzo di storia, perché in quel momento lì invece i conti non si fanno. Cosa fa Luchino Visconti? Visconti gira tutto, gira anche la parte all'esterno, perché la parte più feroce è all'esterno, quando lui viene praticamente prima colpito e reso quasi agonizzante, poi lo buttano sulle rotaie di questo tram. Il tramviere al quale chiedono di farne salsicce si rifiuta, sventola la tessera del Partito Comunista, dice io queste cose non le faccio. Maccarretta viene gettato nel Tevere e poi il resto della storia è quella che sappiamo. Visconti gira tutto questo, ma non lo monta. Perché non lo monta? Visconti era stato arrestato dalla banda Koch, quindi conosceva quell'orrore. Non lo monta per due ragioni, probabilmente perché le immagini erano inguardabili e per una forma di autocensura. Cioè credo che loro non volessero dare la sensazione che nell'Italia che stava uscendo dall'orrore della guerra e della dittatura si protraesse un clima di violenza e di sangue. Questa è l'unica spiegazione possibile di una storia sulla quale però si è steso un velo. Ed è un velo sbagliato, perché se non si fa confusione, se non si fanno pasticci, se si riconosce che il fascismo ha tolto la libertà agli italiani e l'antifascismo l'ha restituita, che il fascismo ci ha portato in guerra e sotto l'occupazione nazista e l'antifascismo ha combattuto per dare agli italiani delle istituzioni libere la libertà di dire le proprie opinioni, se si parte da qui, la storia di Carretta va detta tutta per intero. Perché ci racconta di dove può arrivare la rabbia, l'odio, il rancore. Naturalmente bisogna mettersi in quel tempo, perché quello era un tempo terribile. È chiaro che c'è la variabile di quel momento e di quel tempo. È altrettanto evidente, e secondo me leggendo il libro quest'eco si sente, si sente forte, il fatto che poi i linciaggi li abbiamo rivisti, meno feroci, che non hanno strappato uomini e cadaveri, ma che hanno trasformato simboli in elementi poi di rabbia collettiva. Perché si riproduce questo meccanismo? Perché è fondato sull'odio. Vede, quando noi parliamo di questi momenti dobbiamo distinguerli dal resto. Nulla è paragonabile. È evidente. Si era scoperto da poco le fosse erdiatine, via Tasso, c'era stata la deportazione degli ebrei dal ghetto, quindi era una città ferita a morte. Nulla è paragonabile a quello che è accaduto allora, però il clima di odio, di rancore, l'idea che se tu hai opinioni diverse dalle mie non devi esistere. Opinioni politiche, religiose, sportive, culturali, di orientamento sessuale. La negazione della bellezza dell'altro da sé sta diventando, purtroppo, accompagnata da una rivoluzione, quella dei social, della quale credo non ci siamo sufficientemente occupati, sta diventando un linguaggio normale. Lei parla proprio della ronda della rabbia nei social. Sì, lei lo vede, no? La mattina c'è gente che si alza per insultare il prossimo, per aggredire la memoria di chi è morto, per delegittimare chi ha un'opinione diversa. E tutto questo non avviene senza effetti, perché quando Trump dice o vinco io sarà un bagno di sangue, o pubblica la foto di Biden incaprettato, come si dice, lì si è superato un limite. Come si supera? Quando il linguaggio, il discorso pubblico, perde la coscienza del diritto e del rispetto del pluralismo delle idee. Anche perché lì dentro non c'è mai la possibilità né di ricontestualizzare, né di fare il distinguo. Io devo dire, in questi giorni, a me sta facendo abbastanza impressione, lo racconto così in modo estemporaneo, perché mi viene in mente quello che accade a Roberto Speranza, che faceva il ministro all'epoca del Covid, che avrà fatto delle scelte, alcune perfette, altre discutibili, scelte comunque molto dure in un momento specifico. Oggi viene crocefisso dentro una rabbia collettiva di un certo pezzo di social, dimenticandosi completamente del contesto, di quello che succedeva. Allora, al di là di questo caso particolare, però il tema è proprio che la rabbia della folla non ammette sfumature, non ammette contesto. È la semplificazione, che è la legge dei social. La legge dei social è la riduzione della complessità in uno schema binario, sì o no bianco o nero, e recinti che devono essere l'uno all'altro contrapposti. Il caso di Roberto Speranza è analogo al caso di insegnanti, medici. Ci sono medici che sono stati picchiati perché non hanno fatto la diagnosi o la prescrizione che internet prevedeva. Ci sono insegnanti che vengono crocifissi perché hanno assunto in classe magari delle posizioni che non piacciono alla platea dei genitori. Siamo in una fase nella quale l'idea del rancore, dell'odio, della contrapposizione sta diventando la normalità del discorso pubblico, di questo ambiente che noi non dobbiamo confondere con la maggioranza degli italiani e neanche negli altri paesi. Quando arrivano mille tweet di protesta, quella non è l'opinione del paese. Quella è l'opinione di mille persone su 60 milioni di abitanti. Sì, e poi spesso governate anche da meccanismi tutti da indagare. Ecco, la democrazia è lì in mezzo che fine fa perché la sensazione forte è che sia facile anche per certi pezzi di politica alimentare quel tipo di discorso perché è estremo e forse più facilmente si traduce in voti. Dove sta il punto dello scambio dell'equilibrio se c'è? Nella responsabilità di chi ha un ruolo politico ma non solo politico in generale si può indulgere civettare con questi toni partecipare di questo surriscaldamento ma non si calcola quale sarà poi il confine al quale ci si fermerà. Noi oggi siamo in una situazione nella quale è stato messo in discussione il principio di competenza tutti possiamo fare tutto se ti devi fare un trapianto di cuore non è che auguri tutto viene semplificato e tutto viene ridotto in una condizione nella quale c'è solo la possibilità di essere followers che in italiano si dice seguaci ecco la differenza tra la democrazia e le dittature è la differenza del ruolo dei cittadini nelle dittature sono seguaci nelle democrazie sono cittadini responsabili devo dire che la cosa che fa più impressione di quel racconto e qualche volta in giro per il mondo mi è capitato di assistere a situazioni di borderline con linciaggio è proprio il fatto che in quel momento la folla non diventa una somma di intelligenze collettive ma diventa una somma di istinti i più beceri che si alimentano l'uno con l'altro Carretta è stato ucciso da gente che non sapeva chi fosse quelli che lo hanno finito a colpi di remo come racconto nel libro erano bagnanti che stavano sulla riva del Tevere e che siccome avevano sentito quelli che stavano sul ponte urlare ammazzalo ammazzalo lo hanno ammazzato e questo è quello che succede quando si perde il valore delle parole e si cede si indulge alla tentazione di usare la retorica la demagogia il populismo che è il principale nemico del popolo non c'è peggior nemico per il popolo del populismo che è l'inganno sistematico ti prometto cose che so che non riuscirò a fare ma te le prometto perché devo succhiare da te il voto necessario per avere potere questo questo momento storico con i rischi dei quali lei parla tutte le settimane richiederebbe un un ceto politico a tutti i livelli e in tutti i paesi con un elevatissimo grado di responsabilità lei ha fatto il politico parla del ceto politico io da giornalista dico che lì dentro in questo libro in questo la condanna c'è anche una bella storia che chi ha la passione per questo mestiere riconosce della storia di un giovane giornalista che insomma rompe gli schemi perché ci crede davvero in quel mestiere lì e tira fuori la storia nella sua interezza non la lascio andare via senza due domande di attualità assoluta una so che già storcerà il viso lo so lo so lo so però PD in queste ore a proposito di temperatura che sale ore molto complicate e prima in redazione stavamo facendo riunione e qualcuno ha detto sì occhio occhio nel 2009 quando Veltroni si dimise da segretario del partito che aveva non da molto fondato dopo aver perso le elezioni in Sardegna si dice che più che dei capi corrente era colpa dei cacicchi locali ma siamo ancora lì? no ma guardi ho interrotto quell'esperienza perché mi sono accorto che non c'erano più le condizioni per fare quello che appunto quello che volevo fare cioè un grande partito riformista di massa capace di aspirare a raggiungere una maggioranza di italiani io le posso dire questo si discute molto di campo largo no? io più che alla dimensione del campo sono interessato a che cosa ci si pianta in questo campo quali sono i fiori che ci si aspetta di vedere sbocciare perché è quello ciò che conta per i cittadini non la dimensione del campo ma la bellezza del fiore politico programmatico culturale valoriale che si è capaci di generare se questo fiore appassisce o sfiorisce e non è in grado di esprimere quella meravigliosa avventura democratica che è il riformismo se questo fiore si connota di populismo di moderatismo perde la sua identità quindi oggi secondo me il tema non è quanto è grande la dimensione dell'area ma che cosa ci si vuole fare io adesso volevo far vedere chi ci segue una sintesi di tavole di racconto poetico fatto da Zero Calcare perché lui questa settimana è andato a seguire il processo Ilaria Salis e ne ha tirato fuori questa graphic novel di moltissime tavole che vengono pubblicate su Internazionale che noi vi vogliamo un po' rifar vedere semplicemente per dire che molto si è detto in questa settimana su Ilaria Salis il tratto di Zero Calcare è quello al quale vogliamo affidare il racconto della sua vicenda umana invece secondo lei il fatto che appunto si sia messa questa dimensione fortemente politica su Salis anche col discorso la candidiamo non la candidiamo ha fatto bene o male all'intera vicenda non lo so penso che insomma penso che sia assurdo che in questo paese ci si divida nella indignazione per una ragazza italiana che viene costretta nella condizione la quale è Ilaria Salis che su questo destra sinistra non trovino la possibilità di usare lo stesso linguaggio secondo me è incomprensibile come è incomprensibile la difficoltà a usare la parola antifascismo sono quegli elementi coesivi dell'identità nazionale di un paese democratico nel quale ci si rispetta e ci si legittima reciprocamente che secondo me contribuiscono a un certo disamore per la politica delle persone grazie Walter Veltroni che ha scritto La Condanna e che nella condanna ci fa guardare un pezzo della nostra storia trovando qualche indizio anche di ragionamenti contemporanei e vediamo allora grazie a tutti grazie a tutti